Ma come si eroga il servizio? Il servizio, come dicevamo prima, ricollegandomi a quelle slide iniziali che abbiamo visto, la tecnologia lo sta cambiando fortemente. Fra qualche anno, quando l'Internet of Things sarà realtà in tutte le nostre abitazioni, avremo dei clienti che non si ricorderanno o probabilmente saranno nati quando già non esisteranno più gli interruttori. È la realtà. Oggi mio figlio se gli metto davanti un telefono con la ruota non saprebbe neanche che cos'è. Immaginate, e non stiamo parlando di 30 anni, stiamo parlando di una roba che vicina 5-10 anni, non esisteranno più gli interruttori. Cosa significa? Per rivedere strutturalmente le loro stanze. La domotica diventerà la norma. Entrare in una stanza d'albergue e governare tutto attraverso un tablet sarà la normalità. E se noi, come industria delle hotellerie, non acceleriamo il nostro processo di trasformazione digitale, ma non perché dobbiamo essere più avanti del mercato. Oggi il mercato lo stiamo inseguendo. E questo è il punto. Così come essere presenti nel post-service, cercare di mantenere la relazione con il cliente. La realtà virtuale è uno strumento che noi stiamo utilizzando e che abbiamo presentato recentemente in Bit per portare i nostri alberghi, come vi dicevo prima, in quel concetto di tempo e spazio, dal nostro cliente. Proprio come dicevamo, la trasformazione della guest experience al cuore del digitale. Non è qualcosa che accadrà fra qualche anno, ma è già una realtà l'open pricing. Come accennava il relatore precedente, avere la possibilità di fare un prezzo definito per quel cliente in quel particolare momento. È in realtà il check-out express. Immaginate il check-out. Il tema del check-out, così come il check-in, è sempre qualcosa di misterioso negli alberghi. Si fa a fila di 15-20 minuti per consegnare una chiave. Di fatto hai già pagato prima, perché se hai comprato una tariffa prepagata, o comunque se non l'hai fatto hai dato la carta di credito, quindi di fatto l'azienda può transare e tu hai già pagato quello che hai consumato come servizio, ma devi fare una fila. Perché? Il cliente moderno non ha più tempo per fare quei 20 minuti di fila. Servizi ancillari. Se non andiamo a trasformare l'esperienza di soggiorno attraverso dei servizi, proprio come sta facendo Airbnb, e quindi far vivere un'esperienza al cliente che non acquista più soltanto un luogo dove dormire, ma acquista un'esperienza con te, probabilmente saremmo ancora troppo indietro. Le promozioni, che comunque restano una leva fondamentale ed una leva che utilizzano tutti i canali distributivi, ma un conto è fare promozioni massive, un conto è fare promozioni predictive. Se conosco il mio cliente e da lì il tema dei big data, come utilizzo l'alto numero di informazioni che ho, se riesco a fare delle promozioni predictive, riesco ad anticipare un bisogno che il cliente probabilmente mi esprimerebbe nelle prossime ore. Ma in modalità predittiva riesco a proporre io, in maniera proattiva e quindi creando fidelizzazione alla marca, qualcosa che lui probabilmente acquisterà. Il check-in online in altre industrie è qualcosa di assolutamente normale, pensiamo all'industria degli aeromobili, fai il check-in online, scegli il tuo posto a sedere e da lì anche, oltre che nuovi metodi di pagamento, la scelta della stanza. È una realtà, oggi in NH, in fase test, su alcuni alberghi in Europa, la possibilità di scegliere la propria stanza. Choose your room, entri nel nostro sito e hai la possibilità di identificare qual è il piano in cui vuoi essere, qual è la stanza in cui vuoi stare.